Riuniti a Benevento sul Monte delle Guardie, poste da Dio quali sentinelle del suo popolo, abbiamo anche noi udito il grido da Seir, sentinella, quanto resta della notte? Già quanto ancora dovremmo attendere? Come pastori delle diocesi in cui ricadono alcune aree più marginalizzate del paese che appartengono a dieci regioni, abbiamo ascoltato la sofferenza e le del nostro popolo dovuta al progressivo spopolamento di molti centri e all'assenza dei servizi fondamentali. In uno stile sinodale abbiamo condiviso il senso di frustrazione delle nostre popolazioni e l'abbandono da parte delle istituzioni. I problemi maggiormente evidenziati sono diritti progressivamente negati, quale la salute, l'istruzione, il lavoro, la viabilità, l'ambiente salubre, le interconnessioni. Le comunità cristiane, spesso unico presidio e riferimento dei territori marginalizzati, sentono l'urgenza di contribuire al riscatto umano e sociale delle popolazioni di queste aree, declinando il Vangelo in modi sempre adeguati alla concretezza della realtà. Dopo questo ascolto, accogliendo l'invito del Papa che ci esorta ad attingere sempre nuovo entusiasmo dalla fede in Gesù, il maestro paziente e misericordioso e a non lassarci paralizzare dalle difficoltà, messaggio di Papa Francesco e Vescovi riuniti a Benevento. Abbiamo deciso di rivolgere un messaggio alle nostre comunità e alle istituzioni. A voi, fratelli e sorelle che abitate nelle aree interne, manifestiamo tutta la nostra prossimità, l'incoraggiamento a rendervi protagonisti di una nuova stagione di sviluppo che non può realizzarsi senza un impegno comune. Vi invitiamo a fare rete, uscendo dalla logica dei campanili, vivendo la fraternità e la solidarietà alle nostre chiese locali, chiediamo di vivere il prossimo cammino sinodale come un'opportunità preziosa per ascoltare i nostri fratelli, afflitti da storiche e incalzanti difficoltà, avviando così processi che portino a una pastorale specifica con uno sguardo attento alle realtà rurali. In questo recuperato slancio missionario ci impegniamo a costruire un volto di chiesa battesimale, partecipativa, coinvolgente e coraggiosa, in cui il contributo dei laici e delle donne in particolare venga adeguatamente valorizzato, costruire ponti con le istituzioni nazionali e nelle periferiche, collaborare con gli attori istituzionali nella sperimentazione nazionale delle aree interne e nell'applicazione delle zone economiche speciali, adottare soluzioni pastorali capaci di formare le coscienze a vivere questo tempo di semina, nella prospettiva di una solidarietà circolare. Questo è particolarmente vero per la drammatica pandemia in atto. Alle istituzioni nazionali, regionali e locali, alla vigilia dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzia, chiediamo di disegnare un nuovo modello di sviluppo eco e condiviso, in cui le aree interne possano diventare concretamente il polmone del Paese, l'ho detto Monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI.